E' il periodo più romantico dell'anno, giorni in cui a dominare sono cuori, cioccolatini e rose e rosse naturalmente, ma vediamo se in questa fase post-pandemica ritorna anche il romanticismo a tavola. I tarantini torneranno a cenare a lume di candela nel giorno di San Valentino, siamo entrati nel ristorante Frankie by Santa Caterina, che nel giorno di San Valentino ha sempre creduto. Vediamo come è andata con le prenotazioni. Le prenotazioni stanno arrivando e fortunatamente si comincia a riprendere. San Valentino è come se fosse l'inizio di questa nuova apertura, speriamo che tutto ha un buon inizio e possa avere questa continuazione. Cosa non può mancare nella serata e nel menù di San Valentino? Beh, principalmente il calore, il calore dove si deve sentire, si deve percepire e deve arrivare attraverso i piatti che si devono degustare. Ma noi siamo curiosi e allora qualche consiglio per chi organizzerà una cena romantica tra le pareti domestiche. Un'asfiziosità di antipasti, specialmente solo con specialità di mare, un risotto con melograno, gamberetti e avocado. Ampia soddisfazione con gli antipasti, poi con questo risotto, sorbetto, la frutta e il dolce. Il dolce? Quale sarà il dolce? Quale deve essere il dolce di San Valentino? Il dolce degli innamorati, il dolce degli innamorati dove ci deve essere un dolce a tema, forma di cuore, è il dolce degli innamorati.